Ciao ragazzi, allora oggi volevo proporvi un nuovo gioco, un gioco del cellulare, penso che un po' di voi lo conosceranno perché comunque vedo che sta andando molto in questo ultimo periodo, voi non lo sapete ma sono entrata a far parte del gruppo dei nerd e quindi oggi sono qui con un ragazzo che fa parte anche lui del gruppo, il suo canale si chiama Portalground19, vi lascerò il suo link in descrizione dopo sotto così se volete andare a visitare anche il suo canale troverete tutto in descrizione. E adesso andiamo a cominciare. Ciao a tutti, allora... Io sono viola con il cappellino rosso che non c'è a zecca niente. Allora vediamo un po', iniziamo ad andare. Ah, tra l'altro ragazzi, nella partita precedente, nel video precedente, eh sì perché questo qua è tipo il dodicesimo video che facciamo, ero l'impostore. È vero, è vero, esattamente così. Allora, dov'è che devo andare? Io di là. Madonna che spavento! Ok. Quello morto! Ah, ah ok, ok. Allora, vediamo. Cos'è che ha scritto? Dove? Ma non si è capito che... Sì, domanda, bene, io schifo il voto, ho detto sinceramente. Sì, anch'io perché già che non sanno niente da cosa scrivere, non ha senso. Dato molto, trującere le luci. Eh... Ah, ah ok... Bisogna te fari un rinforo. Sì, risulta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.